O tu ti perdi, o tu ti converti, o perdi la tua anima, deciditi, basta col peccato, basta con la menzogna, basta col cercare soluzioni in altre cose, abbandona la magia, la cartomanzia, la stregoleria, abbandona le favore, gloria a Dio, cerca il Signore! Alleluia! Ascolta la parola di Dio che oggi ti dà un avvertimento solenne perché Dio ancora oggi parla come mandava i profeti, i primi discepoli, mandava Giovanni Battista, tutti dicevano ma chi è questo pazzo che grida? Ebbene, noi non siamo pazzi, predichiamo l'Evangelio della grazia! Alleluia! L'Evangelio della grazia! Cerchiate il Signore! Basta col peccato! Basta col vivere nel buro, caro! Dove ti porteranno il Signore? Dove ti porteranno i desideri carnali che stai seguendo? Dove ti porteranno? Cercate il Signore Gesù, cercatelo cari, la Bibbia lo dice, cercate il Signore prima che sia tardi, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino! Alleluia! Abbandonate la via larga, abbandonate la via del peccato, cercate il Signore che vi vuole dare perdono, pace e misericordia, non importa quale sia il tuo passato, non importa quanti peccati tu abbia fatto, il Signore ti vuole liberare, ti vuole salvare! Lo dice la Bibbia!